Ah! Imbrogli come faceva tuo padre, eh? Senti ancora la sua mancanza? Sì. Molto anche. E tu? Lo vedo in sogno qualche volta. Sogni buoni o cattivi? Buoni. Siamo in barca, a pescare, o camminiamo sulla spiaggia. A chi tocca? A me. Jonathan, non hai niente da dirmi di ieri notte. Proprio niente. Mancherei a una promessa. Ma fatta a chi? Mi spiace, mamma.